Risveglio bruttissimo questa mattina per i custodi del palazzetto dello sport di Montevarchi. Nella notte infatti ignoti sono entrati con effrazione all'interno della struttura e dal campo di basket. Hanno raggiunto le sedi di alcune società sportive devastandole ed asportando bene informatici, soldi della cassa e persino le chiavi del pulmino della Fides poi portato via. I danni peraltro sono, autobus a parte, superiori come valore agli oggetti del furto, la conferma di Egildo Melani, responsabile della struttura. Sono stato svegliato da Stefania Bucci che mi ha informato che i ignoti erano penetrati nel palazzetto e che avevano aperto tutte le sedi e mi dicono ora addirittura hanno anche trafugato il furgone, il pulmino della Fides. Sembra che siano entrati dalla parte del campo da basket, da una porta antipanico e hanno divelto fra l'altro la porta rei che collega il palazzetto del basket da quello della ginnastica pallavolo. E l'atto poi, perché indirizzato a chi fa quasi volontariato sportivo, va al di là dei danni comunque ingenti. Una porta rei costa quasi 3.000 euro e poi hanno asportato un televisore che serviva per le riprese video e dei computer, però hanno divelto tutte le porte. Pertanto i danni e il pulmino del basket speriamo, perché è dotato di satellitare, mi dicono, speriamo di poterlo ritrovare. Perché andare a perdere anche un pulmino, sappiamo il valore, anche il valore così umano di quello che può essere un pulmino. Io penso che siamo arrivati proprio all'ultimo, perché entrare in un palazzetto gestito da delle società sportive, dove si fa attività sportiva a livello di volontariato, io penso che il valore stesso, a parte il pulmino, che poi non credo che loro abbiano potuto trafugare, mi dicono in una sede penso che abbiamo trovato 150-200 euro di valore così di moneta.